Stiamo andando verso l'estinzione della nostra specie. Non solo... C'è niente... ...dento revolverò per il TRANSPG. E un'unico della sua rosa, che è inolata con la sostanza del Lido... ... sveglato da non parte da luce... ... rosa sia l'unico di Fortuna... ... ora direi che da la nostra rosa di Fortuna è finito... ... che è un po' di soluzione... ... rosa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.